Solo in America si aggiungono le tasse dopo aver visto il conto sullo scontrino Solo in America può esistere un gioco così perfetto Il baseball Hamburger Cheeseburger Bacon, chili, cheeseburger Ogni cosa è in cima ad ogni cosa Solo in America Benvenuti all'Economy Value Win, come posso aiutarvi? Presto me ne andrò in America Diventerò una stella di Hollywood Sto cercando l'istinto Guarda che roba Ci stiamo provando È qui che noi vivremo Vede la roccia, vero? Lei vede una roccia Io vedo un'opportunità Staremo via poco tempo Tutti qui sono tristi È così ovunque, no? Però almeno qui puoi mangiare tutti i gamberi che vuoi Ora parliamo di vita Non sempre avremo un altro colpo Pensi sempre ad andare sulla luna Invece siamo ancora piantati a terra Io ti porterò sulla luna Sapevate che Scarlett Johansson Non era la voce originale dei Samantha Nel film Lady Spike Jonze? Le riprese vennero fatte in contemporanea Con l'attrice originale Samantha Morton Ma nelle fasi finali della produzione Il regista decise di cambiare Completamente la voce protagonista Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale Cliccando qua sotto E noi ci vediamo alla prossima Ciao!